dietro il sipario alla fine di hotello al teatro municipale di piacenza qui siamo sul letto il letto il letto della morte che sono con Iago e resuscitati di fresco sdemona e hotello gregory cunde francesca dotto luca micheleti tre personaggi straordinari una donna fortissima e conscia di quello che è un uomo che sembra fortissimo ma è fragilissimo usato come eroe di guerra ma in realtà è marginato dalla società che lo usa come eroe di guerra e il fascino del mare il fascino del mare è che la parte nera che abbiamo tutti è Iago i vostri personaggi signora prima la parto io? si desdemona una persona molto buona ma molto fortunata come dice il suo nome e come canta lui che sono nata sotto una maligna stella no è proprio così e purtroppo il suo destino è segnato perché è distrutto da questo individuo che per giunta non ce l'ha neanche con lei la usa di fatto mi usa mi usa mi usa per appunto indurre la gelosia lui ma in realtà probabilmente è una gelosia anche che tu hai dentro che Iago ha di dentro e quindi non agisce lui direttamente ma fa fare ad hotello quello che vorrebbe fare lui in tutto questo io atto dopo atto divento sempre più consapevole di quello che mi accadrà ma sono forte della mia onestà d'animo ed è questo che mi dà la forza di continuare fino alla fine anche di attendere hotello da sola perché in qualche modo io penso che questa mia onestà questa mia bontà perché io lo so io so chi sono e so la purezza del mio cuore la conosco e penso che questo mi salverà ma purtroppo non basta è esattamente il moro è il moro che è felicissimo con l'amore di Desdemona certamente è ritornato dalla guerra no è completamente innamorato e con un gemme di gelosia succede questo cammino della morte di lui purtroppo lui è come detto tu e lui è molto fragile e non crede non crede niente che lei dico perché lui ha un'idea che Iago ha metto sul sul cervello e non si può cancellare e quello finisce male la fragilità si distrugge Gregor Kunti è uno delle pochissime artisti che ha fatto entrambi gli hotelli l'hotello di Rossini e l'hotello di Verdi quale ti porta più alla fine ti lascia più stremato quale di questi due ti lascia più stremato? La musica di Verdi è un'altra cosa e la dramma è molto molto più diverso quello di Rossini è tutto della musica e tutto della musica e certo la dramma è lì però è un'altra cosa quello di Verdi diventa un attore un qualcuno che bisogna capire tutte le parole di tutti e allora quello secondo me è un regalo questo ruolo E a proposito di attore voi sapete che abbiamo qui un artista dai multiformi volti Iago invece? La cosa più terribile di Iago probabilmente è che noi non sappiamo perché fa tutto quello che fa odia hotello ma c'è un odio troppo potente perché si è semplicemente causato da una rivalità tra soldati e incarna il male il male come dicevi giustamente tu Nicola che ci portiamo dentro e questo male ha nel suo volto una incarnazione sorridente credibile franca e la cosa più devastante è proprio questa che se riconosciamo subito Iago come il cattivo l'opera non va avanti invece dobbiamo dobbiamo fidarci di lui come si fida di lui hotello per tre atti e poi riconoscere finalmente chi è Ti piacerebbe farlo anche in prosa? Molto! Molto! Anche io! Anche io! Però voglio fare Iago! Prossimamente dove sentiamo Gregori Punto e Francesca Adotti e Luca Micheletti dopo quest'otello? Dopo quest'otello? Sì quello che quando finisce l'otello a Reggio Emilia ma io adesso domani vado a casa per Natale per Capodanno e poi siamo a Modena qui sarà a Reggio Emilia poi a Hamburgo per Peter Grimes Gran ruolo anche quello! Francesca? Io a Venezia per la Maria Egiziaca di Respighi Ah questa è proprio una rarità con la regia di Pizzi giusto? Luca? Torino un ballo in maschera Un ballo in maschera insomma per chi ama questi artisti non ci sono non mancheranno occasione di sedi Seguili io vi saluto e ringrazio questi straordinari interpreti di hotello Ciao! A presto! Grazie a tutti! Grazie a tutti!